Un cordiale saluto carissimi telespettatori di TV6, rieccomi qui all'appuntamento col meteo per questo mercoledì 2 agosto, una giornata complessivamente stabile in quanto continua a dominare l'alta pressione nordafricana sul Mediterraneo, tuttavia il grande caldo, quello estremo, eccezionale, è ben distante dall'Italia. Qualche nota negativa sull'arco alpino, qualche temporale, qualche equazione, un po' di addensamenti anche sul Lazio, localmente sull'Abruzzo e il Molise, però senza particolari conseguenze degne di nota. In Abruzzo si prospetta un mercoledì stabile, soleggiato sulle coste, qualche nube in più sull'area interna, nubi per lo più medio-alte, ma non mi aspetto conseguenza, se no qualche velocissimo scrocio di pioggia in montagna, però davvero nulla di significativo. Le temperature stazionare è un leggerissimo calo nelle massime tra i 30 e i 33 gradi, minima invece tra i 17 e i 25 gradi, quindi una giornata calda ma senza grandi eccessi. Bene, con questo concluso ci risentiamo nel prossimo aggiornamento sempre qui su TV6. Grazie. 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 Grazie.